Quando la tecnologia si unisce alla creatività viene fuori un prodotto che fa bene alla città e al territorio. Questo è lo spirito dell'iniziativa dell'Istituto di Istruzione Superiore Video che con la sua band ha voluto lanciare un messaggio di serenità per questo Natale surreale, diverso, particolare, ma si può vivere sereno nei cuori. La tecnologia, la musica, la speranza e il desiderio di ritrovarsi presto tutti insieme. Sono questi gli ingredienti che la band dell'Istituto di Istruzione Superiore o Video ha mescolato per raggiungervi, abbracciarvi ed augurare a tutti voi buone feste. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.